questo è il mio respiro, questa è la mia casa, questo è il mio sogno, questa è la serie B-Win serie B-Win, tutti i colori della passione B-Win, campionato 2011-2012, siamo arrivati alla 19esima giornata della regular season in campo quest'oggi Vicenza ed Empoli, portivi attenzione, vi comunichiamo le formazioni della squadra Empoli, con il numero 27, Pelagotti, con il numero 87, Vinci e il numero 28, Vinci Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.